Individuata dal personale del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia, la donna di 77 anni di San Floriano del Collio, di cui non si avevano notizie da due giorni. La donna, infreddolita ma in discrete condizioni fisiche, è stata avvistata intorno alle 11 di giovedì. A trovarla è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago 81 in una zona boscosa di un canalone in località Scendina. Un operatore SAF, Speleo Alpino Fluviale, attraverso particolari tecniche si è calato dal mezzo aereo e ha raggiunto la signora, prestandole così le prime cure. Sul luogo sono stati fatti confluire le squadre di terra dei vigili del fuoco, che ininterrottamente dalla notte tra martedì e mercoledì hanno continuato a cercarla, con l'apporto dei cinofili e degli specialisti TAS, topografia applicata al soccorso. La signora è stata presa in consegna dai pompieri e accompagnata fino all'ambulanza del 118, intervenuta sul posto, successivamente è stata portata in ospedale per le cure.